Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 17 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, ci saranno complicazioni a livello sentimentale. Sono infatti giornate in cui la tenuta della vostra coppia sarà messa duramente alla prova. Cercate di capire se vale davvero la pena andare avanti o è meglio voltare pagina. Attenti a non essere troppo gelosi, le cose potrebbero solo peggiorare. Avete vissuto un momento piuttosto agitato attorno a mercoledì perché vorreste che alcune cose si sviluppassero a tamburo battente. Da maggio potrebbe esserci stata una riconferma anche sul lavoro, dall'anno scorso ci sono stati molti blocchi ma poi con il passare dei mesi anche se in maniera faticosa tutto sta ripartendo. Cercate di essere meno critici in amore. Ancora un po' d'ansia per alcuni di voi, per una storia d'amore che non prende quota o per una risposta che non si decide ad arrivare. Vi serve un cambiamento d'aria, organizzate un'uscita nel fine settimana per rilassarvi e passare un giorno con i vostri familiari fuori di casa. Ve ne saranno grati. Il lavoro potrebbe subire qualche arresto momentaneo, ma non dovete necessariamente buttarvi su altro. Cercate di organizzare meglio il lavoro o i viaggi per evitare contrattempi. Pagellina del giorno Sentimenti, 8, Attività, 6, Finanze, 8, Beneessere, 6 Toro Cari toro, la giornata è nel segno della ripresa e della rinascita. Infatti avete attraversato una fase complessa secondo vari aspetti. Adesso potete rialzare la testa. Attenti però alle troppe spese di questo periodo, il portafoglio potrebbe risentirne. Siate parsimoniosi. La giornata è nel segno della ripresa e della rinascita. Infatti avete attraversato una fase complessa secondo vari aspetti. Adesso potete rialzare la testa. Attenti però alle troppe spese di questo periodo, il portafoglio potrebbe risentirne. Siate parsimoniosi. Avete svolto i vostri compiti e avete anche lavorato sodo, fatevi aiutare dalla vostra immaginazione per crearvi un mondo parallelo gioioso e appagante. Il lavoro dovrebbe procedere per il meglio in questa giornata. Sarete particolarmente seducenti e affascinanti se appartenete alla seconda decade. Non siate egoisti, le persone che vi stanno accanto hanno bisogno di voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 10. Beneessere, 10. Gemelli. Cari gemelli, sarà una giornata da sfruttare per rilassarvi e recuperare le energie perdute. Siete infatti particolarmente stressati e questo nervosismo potrebbe riversarsi sulla coppia. Non siate polemici inutilmente. Non ne vale la pena. Meglio contare fino a 10 prima di aprir bocca. Sarà una giornata da sfruttare per rilassarvi e recuperare le energie perdute. Siete infatti particolarmente stressati e questo nervosismo potrebbe riversarsi sulla coppia. Non siate polemici inutilmente. Avete acquisito molta più sicurezza in questo ultimo periodo e questo vi permette di non restare inerti di fronte a certe situazioni. Alcuni ulteriori guadagni potrebbero anche arrivare in questa giornata, rispetto a quelli previsti, però dovrete essere tanto parsimoniosi da metterli da parte, ed aspettare un po' di tempo prima di investirli o spenderli in cose inutili. Se state in cerca dell'amore, questo è un giorno meraviglioso per incontrare nuove attraenti figure. Non rinunciate a conversare con coloro che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa. Pagiallina del giorno Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 10, benessere, 9 Cancro Cari cancro, una giornata nella quale sarete alle prese con cambiamenti importanti nella vostra vita, potreste chiudere definitivamente qualche rapporto con le persone che vi circondano. Questo può valere sia per il partner che per qualche amicizia storica. Giornata stancata e sul lavoro Gli impegni non mancano Avreste bisogno di un po' di ferie Una giornata nella quale sarete alle prese con cambiamenti importanti nella vostra vita, potreste chiudere definitivamente qualche rapporto con le persone che vi circondano. Questo può valere sia per il partner che per qualche amicizia storica. Sul lavoro siete stanchi e provati. La giornata di oggi potrà essere davvero fantastica se riuscirete ad approcciarvi ad una persona che vi interessa, non necessariamente sentimentalmente. In amore avrete la possibilità di rinsaldare e migliorare i rapporti già in atto. Potrebbe sembrare strano, ma a volte il lavoro vi aiuta talmente tanto a crescere, che dovreste lavorare sempre più e non fermarvi mai, per acquisire tanta più esperienza e voglia di fare. La lucidità mentale sarà la rampa di lancio per attuare nuove iniziative, soprattutto professionali. Pagellina del giorno Sentimenti 6 Attività 10 Finanze 6 Beneessere 8 Leone Cari Leone, si prevede una giornata davvero positiva. Finalmente arrivano per voi le giuste soddisfazioni dopo un periodo complicato. L'estate infatti vi vede assoluti protagonisti. Tuttavia siate cauti a livello finanziario, non spendete oltre le vostre disponibilità. Finalmente arrivano per voi le giuste soddisfazioni dopo un periodo complicato. L'estate vi vede assoluti protagonisti. Non c'è più quella luna opposta che ha creato disagi giovedì e venerdì. Tuttavia siate cauti a livello finanziario, non spendete oltre le vostre disponibilità. Solo perché i soldi sono un argomento che vi irrita, ciò non vuol dire che non ne dobbiate parlare. Siate prudenti della gestione economica. Se ci pensate, anche voi qualche volta costringete gli altri ad assecondarvi, quindi non fate troppe storie se oggi toccherà a voi cedere. Non perdete il lume della ragione se incontrerete la persona che vi piace, rischiereste delle brutte figure, che verranno ricordate per molto tempo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 6. Beneessere, 7. Vergine. Cari Vergine, inizia un periodo molto interessante con grandi soddisfazioni nel periodo estivo e soprattutto in autunno. Il meglio infatti arriverà per voi tra ottobre e dicembre. Abbiate solo un altro po' di pazienza. Abbiate solo un altro po' di pazienza e poi potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. In generale avete una grande voglia di cambiamenti, anche sul lavoro. Inizia un periodo molto interessante con grandi soddisfazioni nel periodo estivo e soprattutto in autunno. Il meglio infatti arriverà per voi tra ottobre e dicembre. Abbiate solo un altro po' di pazienza, tra oggi e domani non lambiccativi il cervello con inutili complicazioni mentali, fate qualcosa di divertente. Se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all'interno del vostro ambiente lavorativo o presso i vostri amici, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerni. Una giornata così piena di impegni da costringervi a disdire un appuntamento, ma questo alla fine si rivelerà un fatto positivo. Canalizzate le vostre energie nel settore sentimentale, dove il vostro fascino non sarà messo in dubbio dall'alcuno. Oggi dovrete dosare il fascino e l'obiettività se volete concludere degli affari positivi, che si protrarranno nel tempo. Pagellina del giorno Sentimenti, 5, Attività, 6, Finanze, 10, Beneessere, 6 Bilancia Cari bilancia, si prevede una giornata sottotono. Questo non è certo il miglior weekend della vostra vita, soprattutto in amore. Possibili problemi specie nelle relazioni di lungo tempo, con strascichi che si protraggono anche in questi giorni. Forse siete stanchi della solita routine o si è spenta la passione. Le cose migliorano a breve. Si prevede una giornata sottotono. Questo non è certo il miglior weekend della vostra vita, soprattutto in amore. Possibili problemi specie nelle relazioni di lungo tempo, con strascichi che si protraggono anche in questi giorni. Tenete a freno la gelosia in amore. Una pausa da ciò che vi angoscia, per lasciare libero il corpo di respirare senza pensieri vi farebbe bene. Non siate distratte e superficiali nel vostro lavoro, potreste commettere più danni di quanto immaginiate. Cercate di evitare le battutacce oggi, sia al lavoro che nella vita privata. Qualcuno potrebbe risentirsi dei vostri comportamenti e ricredersi sulla vostra persona. Pagellina del giorno Sentimenti 6 Attività 7 Finanze 7 Beneessere 5 Scorpione Cari Scorpione, una giornata positiva sotto molti aspetti, finalmente potreste risolvere qualche acciacco fisico che vi portate dietro da tempo. Dedicatevi di più all'amore, soprattutto se c'è una persona che davvero vi piace. Dichiaratevi se siete single, d'altronde cosa avete da perdere? Finalmente potreste risolvere qualche acciacco fisico che vi portate dietro da tempo. Dedicatevi di più all'amore, soprattutto se c'è una persona che davvero vi piace. Coloro che sono soli o che vogliono anche fare una scelta importante avranno in quest'ultima parte di luglio una marcia in più. Passate più tempo possibile, oggi, con la vostra famiglia, poiché il vostro congiunto e nel caso anche i figli, hanno bisogno di sapervi accanto, e solo voi potete dargli la necessaria tranquillità e senso di armonia. Le cose andranno a gonfie vele in amore, approfittatene. Potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato. Possibili nuove conoscenze e utili contatti per il lavoro evitate però amici e parenti, buttatevi più su conoscenti, poiché la vita privata con il lavoro non va molto di accordo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, Attività, 10, Finanze, 8, Beneessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, questa è per voi una giornata e in generale un periodo particolarmente stressante, con tanta tensione e nervosismo. Se avete avuto discussioni con qualcuno, potreste sentirvi molto limitati nella vostra vita quotidiana, e questo vi infastidisce. Trovate una soluzione. Come? Parlandosi e chiarendosi. Questa è per voi una giornata e in generale un periodo particolarmente stressante, con tanta tensione e nervosismo. Se avete avuto discussioni con qualcuno, potreste sentirvi molto limitati nella vostra vita quotidiana, attenzione alle polemiche che potrebbero nascere per motivi banali. Probabilmente coloro che vi hanno mal giudicato si accorgeranno dell'errore e ripristineranno lo status quo ante. Tagliare gli eccessi nella vostra vita, ha comportato delle rimanenze che ora potete spendere come volete. Momenti di intensa serenità attendono chi è in coppia. Continuando su questa strada avrete delle buone possibilità che il vostro percorso sentimentale vada sempre meglio e si evolva al più presto. Pagellina del giorno Sentimenti 10 Attività 7 Finanze 7 Benessere 6 Capricorno Cari Capricorno, una giornata di riflessione perché siete chiamati a prendere una decisione su cosa volete fare e che strada intraprendere. Potreste avere dei grossi ripensamenti, pentendovi di qualcosa che avete detto o fatto ultimamente. Dedicate più spazio all'amore. Ultimamente il troppo lavoro vi sta facendo trascurare il partner. Siete chiamati a prendere una decisione su cosa volete fare e che strada intraprendere. Potreste avere dei grossi ripensamenti, pentendovi di qualcosa che avete detto o fatto ultimamente. Avete bisogno solo di tranquillità nel lavoro dove forse dovete cambiare qualcosa. Dedicate più spazio all'amore. Cercate di risolvere eventuali contrasti con la vostra solita verve. Evitate la gelosia, che vi porterebbe a esasperare il partner coi vostri timori, il rapporto di coppia potrebbe risentirne. Nell'ambiente di lavoro non potete nimicarvi nessuno, specie se siete arrivati da poco, quindi se c'è qualcosa che vi disturba, tenetelo per voi al momento. Lavorare con le altre persone non è mai facile, soprattutto se queste hanno modi di fare completamente diversi dai vostri. Pagellina del giorno Sentimenti, 9, Attività, 10, Finanze, 5, Beneessere, 10 Acquario Cari Acquario, si prevede una giornata e in generale un periodo di particolare stress. Non sapete bene dove state andando e cosa volete dalla vostra vita. Siete insomma alla ricerca della vostra vera identità. Approfittate del weekend per rilassarvi e riflettere sul da farsi. In questa fase non sapete bene che strada intraprendere, vi sentite spaesati e, più in generale, state attraversando un momento di forte stress. Siete insomma alla ricerca della vostra vera identità. Approfittate del weekend per rilassarvi e riflettere sul da farsi. Vi sentirete disponibili e partecipi a quanto avviene intorno a voi e tutto procederà per il meglio. La vostra memoria in questa giornata sarà molto utile a coloro che dovranno necessariamente fare appello al passato per trovare la soluzione ad una situazione. Novità tenerissime in amore, sia per chi è alla ricerca di un partner sia per chi vuole riallacciare dialogi interrotti. Eccellenti novità in amore, il vostro fascino sarà irresistibile. Pagellina del giorno Sentimenti, 10 Attività, 10 Finanze, 7 Beneessere, 10 Pesci Cari pesci, la giornata non è indimenticabile per il vostro segno, e così l'intero weekend. Le tensioni e i problemi ultimamente non sono mancati. Un periodo di stress che prosegue anche in questi giorni. Possibili problemi economici e indecisioni in amore. Meglio fermarsi e capire bene da che parte andare. Le tensioni e i problemi ultimamente non sono mancati. Un periodo di stress che prosegue anche in questi giorni. Possibili problemi economici e indecisioni in amore. Sarà bene fermarsi e capire un attimo da che parte è bene andare. Oggi nessuno mette in dubbio le vostre qualità. Oggi hai una grande voglia di dimostrare quanto sai amare, potrai esprimerla se ci sarà la persona giusta al suo fianco. In questa giornata avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Questo è un giorno che promette incontri positivi. Focalizza la tua attenzione su questioni finanziarie, perché potrebbe essere in arrivo una certa somma di denaro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 10. Beneessere, 10. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto. Grazie per aver guardato l'idea.